Ciao ragazzi, un nuovo video di The Sims 4 e vi ricordo che grazie al sito Niva potete acquistare The Sims e le varie espansioni con un ottimo sconto attraverso il mio codice LIF, quindi L-I-F. Mi raccomando non imbrogliatevi con la parola LIFE del mio canale, ma adesso vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale, siamo giunti a un altro mese, un mese magico, il mese degli innamorati, il mese di San Valentino e siamo arrivati anche al nostro caro video dedicato alle idee, stavo dicendo di seni zodiacali raga, no vabbè raga, vabbè se mi seguite da un po' sapete che ho fatto per anni le idee dei seni zodiacali, ma in realtà da gennaio sto creando le idee dei mesi, quindi questa signorina che state guardando in questo momento è la simmina dea di febbraio, quindi una simmina dedicata a tutti voi che siete nati in questo mese magico. Chiaramente diciamo che mi sono fatta un pochino ispirare dei colori di San Valentino, quindi un po' rosa, un po' colori tenui e quindi spoiler per la simmina, anche se in realtà non so se vi ho messo la copertina in bianco e nero oppure ve l'ho messa a colori e quindi magari avete già visto il colore del totto insomma. E quindi nulla raga, non perdiamo altro tempo, vi lascio alla realizzazione della simmina, fatemi sapere giù nei commenti se vi piace, cosa ne pensate, insomma quello che volete, se avete idee per i prossimi video e che magari volete che io realizzi, e nulla, io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Ciao!